Leggende, superstizioni, riti atavici o macabre messe in scena Dunque mi conferma che è un omicidio Per nascondere moventi e colpevoli È stato avvelenato Nella provincia francese, otto nuovi omicidi da risolvere Per il ciclo Un luogo un delitto, in prima visione assoluta Delitto nel giura Capitano La morte è stata causata da un trauma cranico È stata colpita? È possibile Giovedì, 21 e 10, Top Crime